Anche io faccio gli interessi degli italiani, è una proposta di Giorgetti, non è una proposta del governo perché non sono mai stato consultato, valuteremo i contenuti, per me se so bene che c'è un problema super bonus, dobbiamo intervenire, io ripeto ho qualche perplessità sulla retroattività perché è un principio giuridico che secondo me non funziona. Allora voglio sentire le banche, voglio sentire le imprese per dare un giudizio, voglio vedere il testo, non c'è nessuna polemica, soltanto uno può avere dei dubbi perché quando è una decisione collegiale, quando è una decisione individuale, si valga, si discute, non c'è nessuna polemica, io sono sempre per fare la sintesi, ma siccome non sono stato consultato su questi argomenti, lo studio, lo esamino, sento gli altri e poi ci diamo. Ma vi siete parlati prima dietro? No, no, no.